Mercoledì giochiamo in Bulgaria contro il Rischi. Il Rischi è una squadra principalmente offensiva, lo dimostrano i 90 punti che hanno segnato sabato nell'ultima partita di campionato o comunque segnano sempre oltre gli 80 punti di media. Il loro gioco si basa soprattutto sul contropiede e sul giocare a ritmi alti in transizione. I loro punti di forza sono tre giocatori americani che sono Wright che è il loro playmaker, è quello che crea appunto il contropiede e la transizione. Edwards che è un po' la punta del loro attacco dove ha più libertà di creare per se stesso, molto più per se stesso che per gli altri. e Jenkins che è il loro lungo, che oltre a essere bravo a sprintare per tutto il campo è molto bravo in post basso nelle situazioni di uno contro uno. Noi dovremmo essere bravi a giocare una partita cercando di fermare la loro transizione perché tramite il contropiede e la transizione loro hanno punti facili mentre a metà campo dovremmo essere bravi a fermare questi tre giocatori che sono l'asse portante della squadra e cercarli di farli giocare il più possibile a metà campo. Al contrario noi in attacco dovremmo essere bravi ad attaccare questi giocatori che sono più votati all'attacco che alla difesa e muovendo la palla e muovendoci di squadra. Grazie a tutti.